Allora ragazzi è sabato, sono le undici e mezza ed è uscito un nuovo video Ma è sabato, non deve uscire un nuovo video, aspetta che ho sbagliato Stasera è venerdì, domani è sabato Oggi è sabato Oggi è sabato E invece no, non ho sbagliato perché ci sono delle novità super super importanti Da adesso in avanti usciranno due video a settimana Uno il martedì alle undici e trenta come al solito e l'altro il sabato alle undici e trenta Questo video sarà un pochettino diverso Per prima cosa, dato che già sono due video a settimana non vi voglio rompere le scatole Quindi questo video durerà veramente poco Sarà un video di un minuto, minuto e mezzo, due minuti al massimo In cui si parlerà di una delle cose secondo me più importanti per i batteristi E cioè la tecnica delle mani Quindi in pratica in questo nuovo video voglio farvi vedere qualcosa Un esercizio che ho studiato durante la settimana Un esercizio che mi piace particolarmente Qualche trucco che ha permesso alle mie mani di migliorare tantissimo Oltre a questo però vorrei chiedere a voi per che cosa potrei essere utile In realtà ci sono già un po' di commenti sotto i miei video in cui mi chiedete delle cose di tecnica Sicuramente quelli lì saranno tra i primi argomenti che tratterò Quindi scrivetemi qui sotto nei commenti Scrivetemi in privato su Instagram Scrivetemi dove volete C'è un sole che spacca le pietre Il set sarà proprio minimal minimal Cioè telecamera ovviamente per registrarmi Questo pad della Tama che mi piace tantissimo Di cui ho già parlato in un video Se non l'avete ancora visto andate qui sopra Vi metterò una scheda sicuramente Un regipad E la sorpresa delle sorprese è che userò queste bacchette Le Evo Drum Sticks Queste sono delle bacchette italianissime Sono fatte a Torino da Paolo Che tra l'altro ringrazio per avermele fatte provare Perché sono veramente bellissime Con il codice sconto Gars Tube Drums Che vi metterò qui sotto in descrizione Ed è L225617 Chiunque può avere uno sconto del 10% su tutti questi prodotti Evo Drum Sticks Ultima cosa poi forse questo video è già troppo lungo Vorrei mettere tutti questi video che faccio un sabato in una playlist Però dato che la rubrica del pad mi sa un po' di televendita tipo Mastrota Vorrei chiedere a voi di trovarmi un titolo per questa playlist Scrivetemi qui sotto Scrivetemi un po' dove volete La vostra proposta E poi ne sceglierò uno Mi raccomando però non siate troppo seri Quindi ricordatevi da adesso in avanti Che ci vedremo il martedì alle 11 e mezza Come sempre da tre mesi a sta parte E ci vedremo da adesso anche il sabato alle 11 e mezza Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao